E senza dubbio un bel segnale quello che giunge da tutta Italia in queste ultime ore. Istituzioni, enti locali ma anche semplici cittadini al di là di ogni bandiero di visione accomunati da un'unica grande speranza a vedere al più presto libero Francesco Azzarà. Una mobilitazione spontanea, quella creata attorno al 34enne volontario di emergency e alla sua famiglia di cui andare veramente fieri, esprime con piacimento la parlamentare del PDL Lella Golfo che nelle ultime due settimane, grazie al ponte diretto istituito con la Farnesina e l'ambasciata italiana in Sudan, ha consentito ai congiunti di Francesco da Motta San Giovanni di rimanere costantemente informati sugli esiti delle trattative avviate nei luoghi in cui il proprio caro è stato rapito la vigilia di Ferragosto. Sono preoccupati i genitori del giovane ma allo stesso tempo fiduciosi del lavoro che il Ministero degli Esteri sta portando avanti con il nostro ambasciatore in Sudan, Roberto Cantone, con il quale la stessa Lella Golfo è quotidianamente in contatto. Le ultime notizie giunte fanno ben sperare, dichiara la deputata calabrese, e fra le novità di queste ultime ore il vertice tra il nostro diplomatico, il Ministro degli Esteri sudanese e la moglie, da poco nominata ambasciatrice per il Sudan in Italia. E non escluso che in occasione del suo insediamento, la prossima settimana a Roma, si possa anche festeggiare la liberazione di Francesco Azzarà. La stessa neoambasciatrice si è infatti dimostrata molto fiduciosa verso una positiva risoluzione della vicenda su cui stanno lavorando anche le autorità locali, intenzionate a ben figurare dal punto di vista diplomatico con il nostro Paese. La situazione resta comunque delicata e sicuramente ciò che si vuole evitare sono false aspettative. Si attendono comunque già nelle prossime ore altre importanti novità. L'obiettivo è liberare Francesco il prima possibile. Intanto sono giunte anche indiscrezioni sullo stato di salute dell'operatore dell'ospedale pediatrico Emergency di Niala. Francesco è in ottime condizioni e sarebbe stato individuato il luogo in cui è tenuto prigioniero in forma, sempre la Golfo, riprendendo quelle che sono le notizie ufficiali giunte dal Darfur tramite la diplomazia italiana.